Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello Stagno. Nostro ospite è oggi il senatore Enrico Borghi, che ringrazio per aver accettato l'invito a partecipare a questa puntata. Grazie a voi. Il senatore Borghi è alla sua terza esperienza parlamentare, eletto deputato la prima volta nel 2013, era stato confermato alla Camera dei Deputati nel 2018. Nel novembre scorso invece ha fatto trasloco, ha lasciato Palazzo Mantecitorio per trasferirsi a Palazzo Madama. Il senatore Borghi del Partito Democratico è uno dei due parlamentari che a Roma rappresentano il nostro territorio. L'altro è il deputato leghista Alberto Gusmeroli, che naturalmente intervisteremo in una prossima puntata. Ecco, senatore Borghi, la prima domanda non è strettamente politica, è più personale. Che sensazioni ha provato lasciando la Camera, dove per dieci anni è stato protagonista, anche di accesi dibattiti, e per traslocare a Palazzo Madama, dove tra l'altro, molti anni fa, c'era già stato un ossolano, il senatore Fausto del Ponte, senatore dal 1976 al 1983. Te richiede quindi un po' le sue sensazioni umane. Beh, intanto grazie per la domanda. È stata un'emozione, perché Fausto del Ponte è stato un po' il primo che ho incontrato come imprinting politico, insomma, lui era di Pieve Vergonte, io sono di Vogogna, quindi c'era una vicinanza geografica, c'è stata anche una vicinanza politica, perché ho avuto modo di formarmi alla scuola politica di Fausto del Ponte, di Carlo Donalcattenghe, della sinistra democristiana, e quindi c'è stato tutto un percorso, l'esperienza dei valori trasmessi dalla resistenza, della Costituzione che Fausto ci ha insegnato, devo dire, mai con la retorica, mai con la prosopopea, ma molto con l'azione concreta, e poi ho avuto la fortuna di stargli al fianco nella mia primissima esperienza politica, che fu l'esperienza della comunità montana a Valleossola, dove lui era il capogruppo della democrazia cristiana, io ero un giovanissimo ragazzo, avevo 22 anni, gli facevo da vice capogruppo, ricordo che una volta mi presentò a Scalfaro e gli disse questo è un nostro giovane leone, e quindi anche allora devo dire che imparai molto da Fausto, e ogni tanto mi sorprendo a pensare, io sono seduto nell'emliciclo sulla sinistra dell'aula, mi sorprendo a pensare dove potesse essere stato seduto lui. Tra l'altro ricordiamo Fausto del Ponte è scomparso circa dieci anni fa, il 26 dicembre del 2012, quindi proprio recentemente abbiamo ricordato i dieci anni della scomparsa di questo nostro personaggio, protagonista della nostra vita politica e sociale. Parliamo invece della sua attività iniziata, io avevo detto novembre perché non mi riferivo tanto alle elezioni, quanto mi riferivo al fatto che il governo poi è entrato in carica in quel momento, e lei in queste prime settimane ha già depositato una decina circa di disegni di legge che hanno la sua prima firma. Ho cercato di leggerli e di cercare di trovare un po' il filo rosso che li tenessi insieme, e mi è parso di capire che potrebbe essere la montagna, la sua interesse e la sua attenzione per la montagna, perché si parla delle professioni montane, del Corpo Nazionale del Socorso Alpino, della tutela e lo sviluppo delle zone montane. Quindi diciamo che questo è sempre stato un po' un elemento che lei ha sempre portato in tutte le sue esperienze, ricordo che lei parlava della comunità montana, lei è stato per molti anni presidente dell'Uncert. Quindi anche in queste proposte di legge c'è la montagna. Sì, mi sembra che la sua lettura è molto corretta, la montagna è intesa però come comunità di persone, le nostre comunità, i nostri paesi, le nostre città, i nostri villaggi, non la montagna estatica che viene contemplata. Io credo che stiamo vivendo un salto di fase nel quale dobbiamo tenere conto innanzitutto che vi è un processo di urbanizzazione e vi è anche un rischio di emigrazione delle migliori esperienze professionali dei territori che non hanno determinate opportunità o che non hanno professionalità ad alto valore aggiunto, tali da poter trattenere sui territori giovani che si formano in maniera professionale. Quindi credo che occorra oggi un grande sforzo di modernizzazione dei nostri territori, una modernizzazione istituzionale, una modernizzazione delle rete e dei servizi, la creazione di figure professionali che sappiano essere adeguate ai tempi che cambiano. Insomma, non contemplare in maniera estatica quello che c'è, ma tentare di trasformarlo per stare al passo, diversamente io intravedo il rischio di una sorta di, come dire, di spirale senza ritorno, perché pensiamo al verbano Cusio-Ossola. La nostra fabbrica si chiama Svizzera, noi viviamo di servizi, di pubblico impiego, di pensioni e molti dei nostri giovani una volta che si sono formati se ne vanno perché non ci sono le opportunità che invece ci dovrebbero essere. E queste opportunità non ci sono perché non abbiamo una rete moderna di istituzioni. E questo credo sia il vero tema oggi per i territori marginali e montani. Senta, oggi c'è quella che è la panacea per tutti i mali, il PNRR. Qualcosa può fare in questo senso per la montagna? Sì, noi abbiamo costruito un PNRR in cui la montagna è dentro in maniera orizzontale, perché il PNRR è costruito sulla transizione digitale, è costruito sulla transizione energetica, è costruito sulla transizione ecologica e quindi questi aspetti sono molto legati alla montagna, si pensi solo all'energia. Però bisogna starci dentro con una capacità di trasformazione e di innovazione. Bisogna lavorare molto sul tema delle risorse umane, bisogna abbandonare l'idea che lo sviluppo arrivi con la politica del cemento armato, dell'asfalto, del computometrico e stimativo. Lei ha accennato adesso il tema dell'energia, è un altro dei temi molto presenti, anche in due, credo, se non tre, dei suoi disegni di legge, le grandi derivazioni, eccetera. È un tema che interessa molto il verbano Cusio Orsola. Concretamente, che cosa c'è in ballo? C'è in ballo molto, perché nel 2030 scadranno le concessioni idroelettriche dell'Enel, che rappresentano molto questo territorio. Il verbano Cusio Orsola produce il 5% dell'energia idroelettrica italiana, è un distretto di produzione idroelettrico molto significativo, e quindi significa che ora si riscriveranno le regole del gioco di quelli che giornalisticamente potremmo definire i padroni delle acque. In un contesto profondamente cambiato rispetto all'inizio, l'Enel prese le concessioni ancora ai tempi precedenti della guerra, con la Edison, con i concessionari privati dell'epoca, poi ci fu la nazionalizzazione, poi nel 99 ci fu la proroga trentennale delle concessioni. Oggi stiamo discutendo di definire le regole del gioco in modo diverso rispetto al passato, e quindi il tema della presenza dei territori che producono la risorsa acqua diventa un tema fondamentale. Una delle mie proposte di legge va esattamente in questa direzione. Quindi i territori diventeranno, semplifico, i territori che davvero diventano protagonisti nel momento in cui le loro risorse diventano risorse fondamentali per il Paese. È così. Oggi i territori sono stati associati a questo percorso di sfruttamento attraverso delle mance, i cosiddetti canoni idrici o cani dei bacini idrici montani. Il mio sogno è che i territori possano essere coinvolti in maniera protagonista e non in maniera surrettizia o da prebenda. Però per fare questo torniamo a quello che ci siamo detti prima. Bisogna modernizzarsi. Insomma, avere un Verbano Cusiossola con 76 comuni, con il comune più grande che ha 30.000 abitanti e che quindi è un isolato di Torino o di Roma, fa sì che poi noi perdiamo troppo tempo a discutere di cose marginali, a litigare sulle cose non importanti e non abbiamo la capacità di poter fare massa critica per stare su partite come queste. Il mio sogno era che la provincia potesse essere protagonista, la vedo un po' latitante. Scusi, provincia, battuta rapida. Ho visto che ci sono alcune proposte di legge già depositate, credo, per riportare l'elezione diretta del Presidente della provincia. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che bisogna discutere del ruolo della natura delle province. Il tema dell'elezione diretta o meno, se non ci sono risorse, se non ci sono funzioni, se non è chiaro qual è il ruolo della provincia, rischia di essere un elemento paradossalmente che complica la situazione. In una provincia come questa, ripeto, di tanti piccoli comuni frammentati, la provincia dovrebbe avere più coraggio per aggregare, per pianificare, per far lavorare insieme. A quel punto avrebbe senso l'elezione diretta. Però, attenzione, l'elezione diretta è legata a funzioni proprie e attributi propri. E quindi, per spendere i soldi, che sono tuoi, devi avere un'idea precisa dello sviluppo. Oggi la provincia è un po' come una vecchia comunità montana. Prendi i soldi di altri, lo Stato e la Regione, e li ridistribuisce così. Quando invece devi chiedere i soldi ai cittadini, devi essere più preciso, più puntuale, avere un'idea della politica che sia meno redistributiva. Adesso abbiamo una finestra oltre il VCO, perché lei è membro della Commissione Permanente Esteri e Difesa. Esatto. Quindi si trova, diciamo, nell'osservatorio più indicato per guardare quello che purtroppo sta succedendo, diciamo, alle porte. No, quasi nel cuore dell'Europa. Quindi la guerra in Ucraina. La sensazione, anche sentendo le ultime notizie, è che Putin questa guerra non la possa perdere. Beh, io temo che la situazione durerà ancora a lungo. Putin aveva immaginato una manovra a Tenaglia, attaccando Kiev dall'alto e occupando la fascia costiera a sud, immaginando sostanzialmente quello che gli storici definiscono un puccio, un golpe. In pochi giorni mi impadronisco. E devo dire che gli stessi americani erano caduti un po' in questa illusione. Tant'è vero che avevano offerto a Zelensky la possibilità di costituire un governo in esilio a Varsavia. Gli avevano proposto il passaggio in elicottero. Credo che una delle risposte che entreranno nei libri di storia di Zelensky è che io non ho bisogno di un passaggio in elicottero, ho bisogno di armi per difendermi. E non si era fatto i conti con la legittima volontà di un popolo, quello ucraino, di difendere la propria indipendenza e la propria libertà. E attraverso l'aiuto e il sostegno dei paesi occidentali si è sventata l'occupazione di Kiev. Ora però evidentemente si crea una situazione di guerra di attrito nel sud dell'Ucraina che sta provocando anche una serie di ripercussioni all'interno del regime russo. È di questa settimana il cambio dei vertici delle forze armate russe. e quindi a testimonianza che evidentemente sta accadendo qualcosa credo che serva una forte iniziativa dell'Europa e della Cina per creare le condizioni per la ripresa di un dialogo. Si parla molto di pace, ma attenzione, chi fa politica non deve riempirsi la bocca con la pace, perché a parole siamo tutti per la pace, ma poi bisogna realizzare le cose concrete per la pace. E la prima condizione è convincere gli ucraini e i russi che dalla situazione di uscita rispetto all'attuale situazione nessuno dei due potrà averne documento. Finché qualcuno dei due avrà il timore che l'uscita è qualcosa di dannoso per loro, la guerra continuerà. Ecco, in questa vicenda mi sembra che ci sia però un silenzio assordante. Le Nazioni Unite. Beh, le Nazioni Unite sono bloccate da un loro difetto di fabbrica, che è il famoso principio di veto, perché, come si sa, i cinque paesi che compongono il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno il potere di veto, uno dei cinque paesi che fa parte del Consiglio di Sicurezza è parte in causa. Quindi l'unica cosa che hanno potuto fare le Nazioni Unite è stato però un passaggio importante perché assicura copertura multilaterale all'azione di supporto all'Ucraina è che nell'Assemblea delle Nazioni Unite, dove non vige il principio di veto, è stata votata una risoluzione di condanna della guerra che ha consentito alla Unione Europea e alla Nato di attivare il percorso di sostegno. Ma credo che il passaggio e lo snodo importante in questo senso possa arrivare dalla Cina. Cioè la Cina si sta rendendo conto che la guerra in Ucraina sta bloccando il prodotto interno lordo mondiale. E siccome la Cina è la manifattura del mondo e siccome la Cina tiene insieme il proprio sistema sociale come dire garantendo meno libertà ma garantendo più sviluppo nel momento in cui dovesse avere meno sviluppo il problema della meno libertà viene a galla. E quindi credo che prima o poi i cinesi si renderanno conto che interesse anche loro intervenire. Ma questo dipenderà anche dalla fermezza dell'Occidente perché c'è una parte dei cinesi che immagina che quello che accade oggi in Ucraina possa accadere domani a Taiwan. Se noi oggi sosteniamo le ragioni dell'Ucraina smentiamo questo parallelismo tra Ucraina e Taiwan e obblighiamo, tra virgolette, in qualche modo i cinesi a entrare in campo come mediatori che a mio avviso potrebbero essere risolutori. E invece in questa vicenda il ruolo della Turchia? È un altro ruolo importante, assolutamente importante perché la Turchia è anche una nazione che fa parte della NATO e come si è visto per esempio nello sblocco della vicenda del grano la Turchia è un soggetto che sia per vicinanza che per possibilità di influenza può essere se non determinante e quantomeno codeterminante. Ecco, lei poi fa parte di una commissione un po' misteriosa, no? Il COPASIR, già lo era membro già nella Presidente Legislatura il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica a noi sembra quasi una specie di loggia di 007 ecco, in realtà di cosa si occupa il COPASIR? Beh, si occupa di quello che la legge prevede e cioè di vigilare, come dice la parola di controllare, di assicurare che l'operato dei servizi di informazione per la sicurezza che è, diciamo, la denominazione tecnica di quelli che correntemente vengono definiti i servizi segreti avvenga nel pieno rispetto delle leggi della Costituzione perché i servizi segreti si possono avvalere di poteri particolari ovviamente però, insomma, non c'è la licenza di uccidere come nei romanzi di James Bond anzi, devono rispondere agli indirizzi del Governo attraverso il Presidente del Consiglio che è il capo dei servizi segreti nel nostro Paese e del Parlamento che dà gli indirizzi e vigila che questi indirizzi vengono effettivamente assicurati e quindi questo è un compito molto particolare e per questo motivo siamo anche assoggettati allo stesso regime del segreto di Stato dei servizi segreti Quindi dalle vostre riunioni non deve trapelare nulla? No, per legge Per legge, certamente Quindi il vostro compito è evitare che si ripetano quelle deviazioni che nella storia del nostro Paese ci sono stati dei servizi segreti purtroppo, no? Sì, noi abbiamo una storia molto particolare in cui per motivi, come dire, storici pezzi dei nostri servizi segreti in parte sono stati utilizzati per la vita politica e in parte sono stati deviati e cioè sono stati utilizzati per mettere in atto una serie di attentati una serie di attività gravi tutta la vicenda della strategia della tensione che inizia con la gravissima strage di Piazza Fontana del dicembre del 1969 e che poi si sostanzia con tutta una serie di passaggi molto complicati e molto gravi la strage di Peteano la crisi del treno Italicus il rapido 904 piazza della loggia Brescia insomma tutta una serie di come dire, situazioni molto molto gravi di contiguità tra terrorismo nero tra massoneria deviata tra servizi segreti che a quel punto non erano più sotto controllo e che poi ha provocato le vicende che sono sui libri di storia per evitare questo nel 2007 il legislatore ha messo in atto una diversa legislazione che ha stabilito che i servizi non possano più essere sottoposti al controllo politico del Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa come era in precedenza tema che poi portava anche alle competizioni all'interno dei servizi ma riguardano alla esclusiva competenza del Presidente del Consiglio che può avvalersi di un sottosegretario delegato e contemporaneamente con un controllo parlamentare in cui l'opposizione ha un ruolo maggiore rispetto alla maggioranza è una delle due commissioni che deve essere presieduta dalla minoranza dalla minoranza all'altra è la vigilanza RAI sì con la differenza che mentre il COPAS lo è per legge la vigilanza RAI è per consuetudine senta sicurezza noi quando pensiamo a un attacco alla sicurezza dello Stato una volta pensavamo appunto alle bombe oggi le attacche arrivano tramite gli hacker tramite gli attacchi cibernetici di questo vi occupate? assolutamente bisogna capire che oggi il concetto di sicurezza si è molto esteso rispetto a quello di quei tempi e non è più assimilabile con il concetto di pubblica sicurezza oggi per essere sicuri bisogna avere la garanzia dell'energia bisogna avere la garanzia delle telecomunicazioni bisogna essere certi che i satelliti che girano nello spazio che trasformano in informazioni i big data non vengono controllati da chi ha intenzioni ostili nei nostri confronti ma oggi è sicurezza anche l'approvvigionamento sanitario pensiamo a quello che è accaduto con la pandemia oggi è sicurezza l'energia tutto il tema che abbiamo visto dell'approvvigionamento energetico noi nella scorsa legislatura attorno a tutti questi temi abbiamo dedicato una serie di specifiche indagini conoscitive e su questi aspetti stiamo conducendo anche una serie di approfondimenti pensi ad esempio al tema dei social network e al modo con cui questi social network vengono controllati estraggono informazioni vitali dalla vita dei nostri cittadini e possono essere soggetti per il controllo della vita dei cittadini senza che i cittadini neppure se ne accorgano è il tema della rivoluzione tecnologica è un tema che ha bisogno di un soprassalto di riflessione democratica abbiamo ancora quattro minuti vorrei fare due domande la prima è sempre per quanto riguarda la politica estera Trump che non riconosce il risultato Bolsonaro che non riconosce in Perugno ma la democrazia è davvero in pericolo in gran parte del mondo a questo punto beh noi non possiamo abituarci all'idea che se qualcuno perde le elezioni dà l'assalto al Parlamento e questo purtroppo sta avvenendo sia in paesi di recente democrazia perché il Brasile è arrivato alla democrazia nel 1985 ma è una delle grandi democrazia e delle grandi economie del mondo che nella più antica democrazia della storia contemporanea e quindi è evidente che noi abbiamo bisogno che la democrazia venga declinata perché questo secolo è il secolo della sfida tra le autocrazie e le democrazie cioè le autocrazie si propongono di superare le democrazie in termini di efficienza di rapidità e anche di numero senta l'ultima domanda è questo lei è anche membro della segreteria nazionale del partito democratico siete impegnati in un tormentato congresso siamo gli unici che fanno un congresso quindi naturalmente si parla di una crisi del partito democratico abbiamo perso le elezioni ecco ma perché secondo voi siete non riuscite a convincere i cittadini della bontà dei vostri progetti perché abbiamo tradito l'idea originale del partito democratico il partito democratico nasce come grande esperienza di sintesi delle grandi tradizioni riformiste del nostro paese in una logica di democrazia dell'alternanza e in una logica di costruzione di una sinistra di governo e poi invece siamo andati al governo non attraverso la democrazia dell'alternanza ma attraverso espedienti e questo evidentemente non può funzionare bisogna ripristinare le caratteristiche le condizioni per le quali si possa essere alternative al governo tra noi e la destra e credo sia molto giusto quello che dice Stefano Bonaccini che noi non torneremo più al governo se non attraverso le elezioni riprendendo l'idea originaria del partito democratico perché la democrazia per i motivi che abbiamo detto prima è il tema fondamentale su cui dare la prospettiva in termini di giustizia di libertà di pari opportunità recuperando il senso valoriale del nostro agire che giudizio dà complessivo di quei primi cento giorni del governo Meloni beh è stata una luna di miele che si è interrotta sulla vicenda dei carburanti una luna di miele agevolata dal fatto che in Italia ci sono due sport lo sport di quelli che saltano sulla diligenza di chi vince e lo sport di chi dà i calci a chi è per terra credo che però questa fase sia chiusa la vicenda della legge di bilancio e l'incredibile errore politico della Meloni sulla vicenda delle accise della benzina ha dato la dimostrazione di quello che cercavamo di spiegare e cioè che la destra non è attrezzata per governare questo paese però non basta dirlo bisogna costruire le ragioni dell'alternanza e questo è uno dei motivi del nostro congresso ci sta ancora una domanda e invece perché questo consenso crescente nei confronti dei 5 Stelle di Conte almeno secondo i sondaggi secondo i sondaggi poi lo vedremo anche nelle prossime elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio secondo me il Partito Democratico sarà ampiamente davanti rispetto ai 5 Stelle ma nell'immediato è facile prendere i voti quando si promette di dare i soldi a tutti soprattutto quando si fa debito pubblico facile e si danno soldi a tutte le categorie il problema è poi quando questo giochetto si interrompe e anche sotto questo aspetto io rifletterei su una questione il reddito di cittadinanza nel nostro paese Cuba 12 miliardi in Italia ci sono 120 miliardi di spesa per i giochi d'azzardo riflettiamo su quello che sta succedendo nel nostro paese a proposito di povertà Senatore Borghi io la ringrazio per il tempo che ci ha concesso le faccio di buon lavoro grazie a voi e naturalmente ringrazio tutti voi che ci avete seguito e vi do un arrivederci alla prossima settimana sempre qui al Sasso nello Stagno quando avremo come ospite il presidente dell'Unione Industriale del VCO Michele Setaro faremo un bilancio del 2022 e guarderemo le prospettive del 2023 arrivederci a vi a vi Grazie.